Buongiorno, sono Gabor Shoyomi, il presidente del campionso italiano in Ungheria. La prima volta che mi rivolgo a voi per salutarvi perché ho preferito lavorare in silenzio dopo della mia elezione. Anche se prima ho voluto convocare un'assemblea di soci o convocare una cena sociale, ma la malattia, la Covid ci ha ostacolato. Non sono tutto nuovo in questo settore perché sono uno dei fondatori di questa Camera di Commercio quasi 30 anni fa, poi nei ultimi anni ho seguito l'attività della Camera di Commercio come presidente del Comitato di controllo. Conosco il passato, tutti i problemi, tutte le vittorie, ma in questo periodo volevo lavorare in silenzio perché abbiamo preparato il nostro progetto dell'anno prossimo che è molto ambizioso e che abbiamo accettato soltanto in questi giorni. Sappiamo che i nostri soci sono molto differenti, hanno diversi problemi e noi tentiamo di confrontarci con tutti quanti, di conoscersi personalmente con i nostri colleghi, dai nostri colleghi, con i nostri soci. Chiedo un po' di pazienza, intanto desidero un buon Natale e felice Capodanno per tutti senza problemi dicovi. Grazie.